La sfida dei cambiamenti climatici è qui e adesso. Un supporto tecnologico che prenda per mano gli agricoltori in questa transizione è necessario e benvenuto. Così la direttore del Consorzio di tutela dei vini dell'Oltrepo ha salutato l'annuncio di Regione Lombardia riguardo l'imminente rilancio del polo agricolo di Ricca Gioia nelle campagne di Torrazza Coste. La carenza idrica, la tropicalizzazione del clima, l'aumento delle temperature medie che spingono le colture verso altitudini maggiori, la necessità di preservare i suoli per le future generazioni garantendo una conduzione sostenibile dei terreni e al contempo la valutazione di nuove opportunità culturali sono alcuni dei temi che secondo il Consorzio dovrebbero essere al centro dell'agenda della futura Ricca Gioia. L'Oltrepo Povese che nel mio campo è vittivinicolo è una grande palestra per l'agricoltura perché va dalla pianura alla media collina all'alta collina alla montagna e quindi è ottima per andare a studiare panorami nuovi per quello che è il mondo viticolo ma non solo. Pensiamo solo al riscaldamento globale, pensiamo al fatto che con il riscaldamento globale andremo sempre di più a utilizzare la collina, le zone più fresche, la collina, la media collina rispetto a quello che oggi facciamo con la pianura. Pensiamo alle altre culture, non solo quelle vitivinicole, ma penso al nocciolo come cultura alternativa alle vite in alcune zone o al rilancio della parte montana agro silvopastorale per uno studio diverso, quindi dei partner importanti con Regione Lombardia, ERSAV, noi siamo qua, siamo a disposizione per ragionare insieme, per lavorare insieme.